Domani alle 14.30 a Taranto, il Pescara affronterà l'11 del tecnico Ezio Lino Capuano. Taranto, ha detto Zeman poco fa in conferenza stampa, squadra molto forte in difesa, poi ha usato un termine molto esplicito per la fase offensiva. E poi in attacco quello che trovano, trovano. Zeman ha ricordato la gara d'andata dove il Pescara fece gioco, ma fece altrettanta fatica a costruire occasioni da rete. Domani non ci saranno gli squalificati Brosco e Milani, l'infortunato Plizzari. Al posto di Plizzari tre pali Sommariva, al posto di Milani giocherà Crescenzi, terzino sinistro. L'unico dubbio riguarda il ruolo di centrale difensivo, dove Pellacani scalpita e si contenderà una maglia con Boben e Ingrosso. Ci andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli i passaggi della conferenza stampa del tecnico Zeman. Ma saranno le stesse difficoltà di andata, penso. Io ho rivisto un po' la partita di andata, che Pescara ha giocato tanto, però non è mai arrivata la conclusione vera. Il problema loro è sicuramente una squadra basata sul lavoro difensivo e poi davanti quello che trova, trova. Noi dobbiamo stare attenti a non farli ripartire e giocare un po' più veloce. E non c'è Brosco, quindi c'è un centrale. Vabbè, io spero che riusciamo a giocare sui ritmi alti e che li mettiamo in difficoltà. È normale che metterli in difficoltà vuol dire arrivare dentro l'area di rigore. E visto che loro sono spesso in otto, ci sono pochi spazi. Però si devono cercare. È normale che più veloci giochi meglio è. Vabbè, penso che l'ultima partita, il primo tempo, era buono. Poi il secondo tempo, non so perché siamo calati, però il problema è fare 90 minuti sui certi ritmi. E poi sulla questione tattica, io penso che ancora non ci siamo. Bisogna lavorare per farci capire che bisogna fare ogni tanto cose diverse. Per me i numeri devono consentirci di vincere, quindi è meglio fare un gol più degli altri. E penso che finora la squadra ha risposto. Come è andata proprio dal punto di vista fisico questa settimana di lavoro? E se secondo lei Pellacani, al di là delle scelte che farà dal punto di vista atletico e dal punto di vista del ginocchio, è pronto per poter giocare eventualmente una partita? Grazie. Vabbè, in settimana si è lavorato bene, nel senso che non c'avevo problemi, ragazzi. Qualcuno ha preso qualche botticella in più, però fa parte del calcio. E sono pronti per me. Pellacani è a disposizione. Ha lavorato già da due settimane e quindi non dovrebbe avere problemi se scenda in campo. Vabbè, matematica dice che dobbiamo vincere due partite. Poi quello che succede con gli altri non ci dovrebbe interessare. Vabbè, bisogna giocare sempre da 0 a 0. Vincere 4 a 0 non vale perché è 0 a 0. E per vincere deve continuare a fare qualcosa. Io torno sulle scelte che ha fatto in queste settimane. Lei ha dato l'idea che su difesa, centrocampo e attacco, non dico le scelte siano fatte, ma comunque sta dando continuità a determinati giocatori. Significa che loro al momento sono un passo avanti rispetto agli altri? Oppure, quello che hai sempre detto, io ho 20 giocatori, possono giocare tutti e 20, vale sempre. E come sta Jabua nel suo processo di recupero? Grazie. Eh, lì è il discorso. Che ho tutte a disposizione, bisogna vedere quando li potrò utilizzare. Perché Jabua per me oggi sta bene. Però è più per dichiarazione sua che per dichiarazione mia. E devo aspettare un altro po'. Però non vuol dire che durante la partita non puoi entrare. Poi altri, ripeto, c'è concorrenza. Poi per me se comincia uno o l'altro dovrebbe essere uguale. Anche se, visto che la formazione ha preso certi atteggiamenti e certe sincronizzazioni, non li voglio ricominciare da campo. Lei aveva detto due settimane fa in conferenza che Vergani aveva qualità, però si doveva impegnare di più. Si è impegnato di più in queste settimane? Abbiamo due ragazze che, secondo me, anche se non si impegna, vale. Vale, nel senso che dà sensazione di non impegnarsi. Ma lui ha i suoi ritmi. E quindi se entra in sintonia con i ritmi nostri, nel senso dei compagni, farà bene. In settimana ho visto che ha provato spesso Crescenzi come terzino-sinistro. Gozzi non è ancora pronto oppure è in ballottaggio domani? A Gozzi fisicamente c'è e tatticamente ancora non mi convince. Però anche lui fa parte e spero che prima o dopo si ritagli il spazio.